Ciao ragazzi, oggi siamo qui con il decimo progetto di HT11, sensori di temperatura e umidità. Questi sensori qui sono sempre un po' delicati, nel senso che trovano anche un po' fortuna. Se avete la fortuna di trovare quello che funziona bene, è molto preciso, anche la temperatura, l'umidità è tutto molto preciso. Se invece trovate quello un po' più farlocco, sbaglia completamente. Io ne ho avuti per le mani di quelli più precisi dei termometri ad alcol, a momenti, e di quelli invece che, era già tanto se si accendessero, possiamo dire, quello che ho io ora è una via di mezzo, nel senso che a volte è molto preciso, a volte invece sbaglia completamente, ma in modo proprio brutto, ed è quello del kit di Elegu. Quindi, vabbè, comunque, per fare questi esperimenti, anche se poi non è precisissimo, ci sta. Ma, chiaro che, se volessi fare questo progetto non così per divertimento, ma perché mi servisse qualcosa di serio, beh, allora magari sarebbe meglio andare su sensori un po' più costosi, e non, appunto, economici come i DHT11, che con 10 euro te ne danno 30. Comunque, in descrizione, come sempre, trovate il link per il download di codice e schema e dello screenshot del pinout, questo qui, eventualmente non dovrebbe servirvi perché avete lo schema, ma non si sa mai. Quindi, andiamo ad aprire il codice. Questo codice qui si basa su quello di Adafruit DHT. Infatti, come scrivo anche qui, vi ho fatto un appunto, installare la libreria con pip install Adafruit DHT. Quindi vi aprite un bellissimo terminale. Senza sudo, mi raccomando, vedo sempre la gente che usa pip con sudo. Non dovete farlo, perché va a creare conflitti con ciò che installa il Package Manager. Poi, quando voi aggiornate il sistema con apt o con pacman, se siete su Arch, o con dnf, se siete su Fedora, il Package Manager non si capisce più, perché vede file già creati da chissà chi, per cui non li va a sovrascrivere. Quindi, dovete smetterla di usare pip con sudo. Pip va usato senza sudo, perché allora installa le librerie nella directory home il Package Manager. nella directory root e non si creano conflitti a vicenda. Quindi, pip install Adafruit DHT. Fatti invio, dimenticatevi per sempre sudo. Ora io ovviamente l'ho già fatto, per cui adesso dovrebbe dirmi che è tutto ok. Quindi, dovete fare questo. Se voi, la prima volta che lo fate, scarica, installa, non ci mette tanto, 10 secondi, 20 secondi e avete finito. Per quanto riguarda le parti basilari del codice, come l'importazione delle librerie, vi rimando al video di introduzione, non lo ripeterò qui. A noi ciò che interessa è la dichiarazione del sensore, quindi dobbiamo dirgli che è un DHT, sì ma di che tipo? 11 in questo caso. Questo codice uguale, più o meno, dovrebbe andare bene anche per il DHT22, ma in quel caso lì, qui dovreste scrivere ovviamente 22. E dove lo andiamo a collegare, questo sensore? Sul pin 4, che a giudicare poi anche dallo schema, stiamo seguendo la denominazione BCM, perché vedete che è collegato sul quarto pin. Di qua però il quarto pin sarebbe il 7 in teoria, invece per lui è il 4, quindi vuol dire che stiamo usando BCM e quindi questa nomenclatura qui, GPIO4. Comunque queste sono tutte cose che ho spiegato nel video di introduzione, andatevelo a vedere. Qui andiamo a inizializzare il sensore e poi andiamo appunto a leggere, quindi se l'umidità e la temperatura non sono nulli, cioè nel senso se effettivamente rilevi qualcosa, me lo vai a scrivere. Quindi su una riga mi scrivi la temperatura con tutte le sue operazioni varie per renderlo poi leggibile. Su una riga quindi la temperatura, su una riga l'umidità, aspetti 60 secondi e questa cosa la fai all'infinito. A meno che, a meno che, l'utente non dia un keyboard interrupt, quindi non dia un CTRL-C, in quel caso mi chiudi lo script. Quindi con Sys.exit andiamo a chiudere lo script. Nel caso in cui il sensore per qualche motivo non funzioni, mi vai a chiudere lo script così senza dire niente. Sì, cioè, mi dici che è impossibile leggere il sensore, però poi chiudi lo script. Quindi questo è il quanto. Ovviamente per questo video modificherò questo, lo metterò 5, perché non possiamo aspettare un minuto ogni volta che si aggiorni. Ovviamente se modificate qui, se qui scrivete 1, ogni secondo lui vi scrive la nuova rivelazione. Rilevazione. Pardon perché così improvvisamente si scoprì che sapevo anche il francese. Non è vero, ovviamente. Comunque, ovviamente ci serve il sensore, 3 cavetti GND 5V e segnale e una breadboard, giusto per comodità. Per quanto riguarda il sensore, ma c'è anche sullo schema, il primo pin che peraltro è, vedete che c'è una S, non so se voi la vediate. Comunque, sul primo pin qui accanto c'è una S che sta per signal, quindi questo primo pin è il segnale. Il pin centrale è il pin VCC che va collegato al 5V. Attenzione perché il sensore potenzialmente può funzionare anche se collegato al 3,3V, però fa delle letture molto meno precise. E infine l'ultimo pin è il GND. Quindi lo vado ad attaccare alla mia mini breadboard. Quindi abbiamo qui il pin segnale, all'opposto il pin GND e centrale il pin 5V. Ok. Quindi, il pin segnale lo andiamo a collegare al pin 7HGPIO. il pin GND lo colleghiamo ad un GND qualsiasi di Raspberry Pi. E il VCC lo andiamo a collegare al 5V, che è il primo pin sul rei esterno o il secondo. Ora possiamo andare ad aprire un terminale in quella directory lì, quindi prendo un terminale, mi sposto in programmazione, 10.dht11 e già che ci sono, eseguo lo script. Faccio invio e vedete che ora mi dà la rilevazione. 27 gradi, umidità al 50%. Io qui ho anche un termometro, vi faccio vedere. Vedete che ogni 5 secondi, mi sembra che avessimo impostato, mi dà una nuova rivelazione. Questo qui è il termometro che, nemmeno questo non è che sia ultra preciso, però sicuramente più di questo. Vedete che in realtà ci sono 22 gradi e mezzo. Questo non misura l'umidità, però se il range più o meno è quello, direi che l'umidità anche essa sia sicuramente minore. rimane il fatto che questi sensori qui possono essere belli, sì, tutto quello che vogliamo, per fare esperimenti così, per divertirci un po', però non è che funzionino. Più di tanto, almeno questo, poi magari, come dicevo prima, alcuni sono veramente molto precisi. In descrizione trovate il codice con i 60 secondi, però non è che lui ci mette 60 secondi a fare la rilevazione. Lui a fare la rilevazione ci mette un secondo, cioè noi possiamo anche farlo andare in loop ogni mezzo secondo, mi fa vedere una nuova rilevazione. Non è un problema. Ho fatto ogni 60 secondi, giusto perché altrimenti non è che abbia tutto questo senso, ecco. Comunque, come sempre, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perderne nemmeno uno, per non perdere i prossimi. Scrivete nei commenti se non avete capito qualcosa, se avete domande, se avete suggerimenti, e noi ci ritroviamo, come sempre, in un prossimo video. Ciao!